Il pestaggio in questo condominio che si affaccia su Corso San Michele del Carso, a Lecco, un gruppo di ragazzini facevano rumore. Una condomina è scesa per dirgli di smettere con gli schiamazzi ed è stata presa a pugni e calci, lasciata in una pozza di sangue in fondo alle scale. La vittima è una donna di 55 anni, picchiato anche il vicino quarantenne, il primo ad essere intervenuto per chiedere alla banda di giovani di abbassare la voce. Gli hanno sferrato un pugno, ha rimediato una prognosi di dieci giorni, oggi era già rientrato al lavoro, ma i baby bulli si sono accaniti in particolare contro la 55enne. L'aggressione è avvenuta mercoledì sera, poco dopo le 22, presa a calci, colpita ripetutamente con un casco. La prima ad alzare le mani sarebbe stata proprio una ragazzina. La donna è stata trascinata fino alla strada e è abbandonata in una pozza di sangue e solo l'arrivo dei carabinieri intervenuti con due pattuglie. Ricoverata in ospedale è stata dimessa questa mattina la prognosi di 25 giorni, eccola mentre rientra a casa accompagnata dal figlio che vive con lei. A parlare sono i vicini, la moglie dell'uomo picchiato, non è riuscito a riconoscerli, indossavano il casco, ci dice. Erano in 5 o 6 italiani e stranieri, c'erano anche due ragazzine, i condomini hanno chiamato le forze dell'ordine. Ho sentito gli schiamazzi verso le 8 e mezza, dalle 8 in avanti, dei ragazzi facevano festa e poi dopo ho saputo più tardi, vedendo arrivare il carabinieri e poi l'ambulanza, che era successo quello che ho sentito che è successo. Che lei sia riuscito a capire o meno, ragazzi della zona, ragazzi... Sono dei ragazzi che vengono probabilmente a trovare qualche condomino, a mio avviso, poi non so, e non essendo sicuro non posso puntare il dito su nessuno, ragazzi adolescenti. I carabinieri stanno cercando di identificare gli autori del pestaggio, all'arrivo delle sirene si erano già tutti dileguati, si stanno ascoltando i testimoni, visionando le immagini delle telecamere. Un episodio di violenza che arriva pochi giorni dalle risse e dai problemi in via Letturati. Episodi diversi e con problematiche differenti, spiega l'assessore alla sicurezza di Lecco, Simona Piazza. In via Letturati siamo intervenuti con una serie di provvedimenti che stanno iniziando a dare risultati. In corso San Michele non erano invece mai stati segnalati assembramenti, problemi di ordine pubblico o baby gang. Quanto accaduto è gravissimo, questo non è disagio ma violenza pura.